Verrà completato in una delle prossime notti, quando le condizioni del mare saranno tali che permetteranno di operare in completa sicurezza, l'intervento di collegamento tra la vecchia tubatura che porta a largo le acque reflue in uscita dall'impianto di pretratamento di viabeti e le condotte sotterranee a servizio del nuovo depuratore di rapallo in via di ultimazione nella zona di Ronco. Al momento il cantiere allestito da Irene Italscavi nella zona antistante il castello sul mare alla foce del torrente San Francesco resta aperto in vista dell'ultima operazione che ne consentirà la chiusura. Il punto è stato fatto nei giorni scorsi dal sindaco Bagnasco e dall'assessore Lasinio, operazione non semplice caratterizzata da una serie di attività preparatorie a cui la mareggiata di giugno ha aggiunto ulteriori complicazioni. A tre metri sotto il livello del mare è stata intercettata la vecchia tubazione di cui non si conosceva il diametro. Una volta individuata e misurata si è proceduto alla creazione su misura del giunto di collegamento tra questa e le condotte nuove. Adesso si tratta semplicemente, ovviamente il termine è fra virgolette, di collegare le due tubazioni e il gioco è fatto. La scelta di compiere questa operazione di notte è dovuta al fatto che la condotta dell'impianto di Viabetti resta comunque in pressione e solo durante le ore notturne si può sospendere più facilmente il lavoro dell'impianto di prefiltraggio. Una volta conclusi i lavori tutta la zona alla foce del torrente San Francesco potrà essere risistemata. Il comune ha chiesto ad Irene di farlo velocemente. Abbiamo chiesto di inserire anche i doppi turni per accelerare i cantieri, una pulizia profonda della barra fociva quindi della vasca del fiume Boate alla fine dei lavori che nonostante che l'abbiamo già appena fatta noi ma potrebbero i lavori in corso portare eventuali residui ulteriori. Con il collegamento tra la vecchia e la nuova condotta si potranno così portare i liquami verso le vasche del nuovo depuratore nel quale proprio in questi giorni si sta testando il sistema di trattamento e filtraggio che risulta essere già pronto ad entrare in funzione. Il depuratore struttura devo dire che è andato avanti anche in periodo di Covid salvo pochissimi giorni. Ora stanno installando in questi giorni le strutture lamellari all'interno delle vasche per poi cominciare con le prime prove fisiche di liquami. L'involucro rimane ancora indietro ma che tempi ci sono su questo? Io direi che nell'involucro nella sua fine un anno potrebbe essere un buon periodo, l'importante però è che parta la depurazione che quindi quello sta ripartendo, riandando avanti abbastanza velocemente quindi quello è il nostro primo obiettivo.